Il bagno è impensabile. Fino a qualche anno fa, quando la città era assurta agli onori, si fa per dire, della cronaca nazionale, per un amare fortemente inquinato e un divieto di balneazione quasi perenne, la bandiera blu ottenuta l'anno scorso e riconfermata quest'anno costituisce sicuramente un'iniezione di fiducia, non solo per l'amministrazione comunale, ma anche per i cittadini. Ora il bagno si può fare e Pescara rientra con orgoglio tra le 14 località abruzzesi che la FE ritiene meritevoli di far sventolare il vessillo sul proprio territorio. Ovviamente non deve e non può bastare. In una città che ha il mare nella DNA dei propri abitanti, bisogna riportare in auge anche il turismo che si serve delle sue sponde e mettere in sicurezza il lavoro dei pescatori. Gli attuali lavori al porto indicano che, comunque la si pensi, una strada è stata imboccata. Ne è convinto il sindaco di Pescara, Carlo Masci. I lavori al porto serviranno anche a questo, oltre che a favorire il turismo e le partenze magari di traghetti verso l'altra sponda? Sì, anche su questo abbiamo lavorato molto quest'inverno, questa primavera. C'è un bando che è stato fatto dalla Camera di Commercio per il collegamento marittimo con la Croazia e noi pensiamo che già da quest'anno ci potrà essere di nuovo il collegamento dopo tanti anni, ma c'è il discorso del porto e dei lavori che si stanno facendo e che ci permetteranno di avere finalmente un porto dopo più di un decennio che il nostro porto sta soffrendo. Ieri ho fatto una riunione con la Regione, con l'impresa che sta facendo i lavori, con l'Arap, con la Capitaneria di Porto. I lavori procedono spediti. Devo dire che c'è una bella stagione di lavori in questa città legati al mare, legati al porto, legati all'attività comunque turistiche di sviluppo della città, andiamo avanti. Certo abbiamo passato due anni difficilissimi, la pandemia, la crisi sociale, la crisi finanziaria, la crisi economica adesso anche la crisi umanitaria, però noi guardiamo sempre avanti e questa è una città che reagisce in ogni occasione come ha sempre fatto e devo dire che le risposte sono eccellenti. Il Giro d'Italia che arriverà a Pescara tra il quinto è una città che darà il meglio di sé e anche io mi sono messo la cravatta rosa perché questo è il mese della bandiera blu ed è il mese del Giro d'Italia che proietterà Pescara in mondo visione, ma poi avremo anche Cartoon on the Bay che è una manifestazione di livello mondiale organizzata dalla RAI che porterà Pescara anche in mondo visione con il Festival dell'animazione. Insomma Pescara è una città viva che si rappresenta sempre al meglio e noi cerchiamo di dare il nostro contributo per far sì che Pescara possa essere quella che tutti quanti noi amiamo e quella dove tutti arrivano e rimangono stupidi dalla nostra città.